In studio, con i miei allievi, lavoro così. Vieni a vedere. Donatella, a che punto sei? Non lo so. Come non lo sai? Fai vedere. Sto girando e rigirando intorno. Eh beh, quella alla fine così succede. Eh, non so. Fino a che a un certo punto dici vabbè è finito, basta. Mi hai esaurito. Gli dici così e muore. Fai vedere, fai vedere. Stai facendo orario. Allora, guarda che... Allora, e adesso sto andando a memoria, però tu c'hai qui, 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 qui degli squilli di luce. E anche qui e qui sicuramente. Mi voglio mettere troppo bianco. Perché effettivamente... Vabbè, allora lascia perdere, però qui si lo devi mettere. Sì, ho cercato di metterlo, ma a volte mi sembra troppo... Però lo devo mettere. Deve essere... Violento. Eh, infatti. Una cosa decisa. Una cosa decisa. Anche... Anche qui... Cioè... Tutti questi profili qui... E qui sicuramente se c'è luce qui, qui ci sono. No. Guarda come si andattano di più nello schermo. Che cosa perché c'è luce. Può essere. Ho cercato di farlo, vedi? Sì. Cioè... Allora il vetro è così. Cioè... C'ha dei tagli assoluti. No? Ci vuole coraggio. Lo so che ci vuole coraggio e uno c'ha paura. Però... Eh... Ormai sei lì. Cioè... Marco... Portami un po' a vedere quello che stai facendo, per favore. Sei troppo prudente con quei bianchi. Sì. Con i chiari. Troppo prudente. Ti dovevo far vedere io, dice. Guarda, se me lo porti, lo facciamo in diretta. Portami... Dammi quello. Mi devi portare la tavolossa e il pennello. Sei troppo... Prudente. Prudente. Cioè... Temo, temo. Eh lo so, ci abbiamo tutti. C'ho paura. Paura di sbagliare. Vabbè, ma scusa, ma questo è un esercizio. Appunto. Ma anche negli esercizi ti assale la paura. Ah, ok. Allora, qui praticamente... Facciamolo vedere. Sei diretta perché? Siamo in diretta. Siamo in diretta. Benissimo. Ci abbiamo cinque... Allora, questo lo vedi? Guarda qui. Guarda. Tum, tum. Sì, sì. Tum. Cioè, guarda. Qui addirittura c'è un lustro. Però il lustro lo vediamo dopo. Qui. Questi i piani facciali. Cioè, la luce gira qui così. Qui. Qui. Sì. Qui. Forte. E allora questi... Quindi l'ho individuati ma non sono riuscito a caratterizzarli. L'hai individuati ma ci hai dicendo Dio che sarà qui, bam, glielo devi dare. Eh, appunto. Non devi... Se c'ha... Dici, sotto ce l'hai già il rosso, quindi il tono, quindi lo devi scaldare proprio. Sì. Sì. Cioè... Intanto poi impastando non puoi avere... non ha senso avere paura. Perché impastando... Sì. Vedi che succede? Ti si smorsa il bianco. Sì. Non è che stai dando bianco. Stai... Correggendo il valore tonale. No, il valore chiaroscuro stai correggendo. Qui, qui c'è. Allora, poi a un certo punto, mano a mano, tu dovresti fare la sensibilità a cos'è che c'hai sulla punta del pennello. Vedi, adesso so che c'ho un colore intermedio e me ne vado a lavorare sui... sui profili, vedi? Cioè stai smorzando? Sto smorzando gli andamenti, poi vado dentro, vado fuori... Poi casomai... Certo. Ci fermiamo qui. Domani una nuova lezione da 5 minuti. Ah, un attimo. Lo sai che dal giovedì alla domenica, dalle 9 e mezza di sera, mi trovi su Twitch mentre dipingo e disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare? Trovi il link qua sotto. Vieni anche tu! Ciao! No! No! Grazie a tutti.